Ecco il mio treno Italo 1355 Porta Susa. Ah, oggi voglio attivare qualche nuova opzione. Ecco, con solo un euro in più, l'Italo Motivatore. Chissà di cosa si tratta. Ecco qua, attivato, con solo un euro in più. Forza, forza, dai, questo è il tuo viaggio, tu ce la puoi fare. In questo viaggio tu imparerai le cose. In questa maniglia ci sono i tuoi, i tuoi desideri, portateli con te. Forza, forza, dai, 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 corri, 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 corri. Non è solo un viaggio, non è solo un treno, capisci? Non è solo un treno, è la tua vita. Tu devi superare ogni ostacolo. Prendi il treno. Qual è, qual è, qual è, che ora è? Il binario 12, 1355. E allora noi sai che cosa faremo adesso? Faremo tutti i binari, dal primo all'ultimo. Avanti e indietro, per dodici volte. Ah, qua c'è anche il plus. A un altro euro in più, il motivatore plus. Ecco qua. Nella valigia rossa ho messo lo spazzolino, le pantofole e l'accappatoio. Tu, questo è il tuo futuro. Tu, tu, sei il centro della tua vita. Tu, tieni, puoi partire, ce la puoi fare. Corri, forza, forza, corri. Il tuo futuro, ce l'hai in mano. Il tuo futuro. Eccolo. Dai, dai, dai. Grazie ragazzi, grazie. Dai, dai. No, no, grazie, ragazze. Noi siamo contenti. Ah, eccoci qua. Carrozza 9. Vediamo. Alta velocità 99. Non è solo la camera, non è solo la camera. Rinasce, rinasce ancora. Rinasce ancora di là. Forza, corriamo. 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 Corriamo verso il tuo futuro. Devi correre verso il tuo futuro. Dai, vieni, vieni. Adesso cerchiamo tutti i posti. Perché tu hai il tuo futuro. Grazie. Sì, grazie. È appena partito Italo. È una cosa incredibile. Con un euro dell'andata ho ancora il servizio dell'uomo che mi osserva. Italo, una sicurezza. Ed ecco, il viaggio è già iniziato. È passata l'assistente che con una semplice lettera mi ha permesso di salire a bordo. Non c'è neanche più bisogno del biglietto. Ma andiamo a scoprire invece le novità. Leggo qui, Italo pronto. Il telefono amico. Con un euro in più. Vediamo. «S'ha già il telefono in più. E' un'altra cosa». «Posso?» «Fa, è un po' più sfumato». «Ma sei. Ciao, mamma. Sì, sì. Ciao, sì, sono Paolo. Paolo Italo. Sì, sì. Sì, volevo dirti che arriverò al treno, sul treno Italo. Che amato, c'è il tuo. Sì, sono molto comodo, sì. Arriverò al 18.10 più qualissimo, come sempre. Italo, è un bellissimo treno, lo sapevi? Sì, ed è molto sicuro. Sì, ciao, mamma. Grazie. Italo, quante novità.